Ok, meglio andare. È un gran giorno per te domani. È solo una partita di Coppa? Ehi, non c'è nient'altro come una partita di FA Cup. Si tratta del torneo più difficile al mondo e tu faresti bene ricordartelo. Ehi, non dargli retta. È l'unico trofeo che non ha mai vinto. Non lo ammetterà mai. Ma è il più grande rimpianto di tutta la sua carriera. Domani vai là fuori e fai del tuo meglio. Buonanotte. Ok, benvenuti. Sono Mario Fes85 e oggi ci troviamo qui nuovamente su FIFA 17. Per continuare il nostro viaggio di Hunter. Allora, vediamo un po' che partita c'è. Cioè, quindi abbiamo una partita di Coppa. Come simula la partita? Non mi ha chiamato. Non mi ha fatto giocare per... Nell'altra partita. Vabbè. Andiamo avanti. Ok. Ok. Ma quale brutta chiamata. Questa mica io gli ho detto di fare è quello. Giacomo. Giacomo. Per a chi? Fasera. Fasera. Continua a girare le balla cercando il momento al gusto. Ottimo il tallone più sbanno. Hunter. Oh. Ooooooooh Dunque è già una bella occasione e l'abbiamo avuta Ah Noooo Caputana Pazzo C'è cacchio C'è spazio per andare E' il portiere Recupera il panorama Dai bisogna trovare qualche occasione interessante Oh Merda Nooo 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 Sushi 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 Nooo 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 tribune poste a ridosso del terreno di Giorgio al termine della stagione 2014-2015 ha festeggiato la storica promozione in Premier League della Bonham il protagonista è l'anno seguente di un'appassionante lotta per la salvezza attenzione murato dall'intervento del difensore ma perché mi ha murato dai ancora ok grande splendido gol grandissimo bellissimo questo gol il pallone è uscito sarà dimessa buono buono buonissimo hanno concretizzato le maggiori occasioni di regola tutte nonostante chiamazzali sono certamente favoriti alla vicilia e le volte la passione buona triangolazione Bok Giosny Amter 30 metri cazzo buon recupero del pallone passano di partita ottimo recupero del pallone Amter muta l'area buona la lettura difensiva che interrompe l'azione un documento interessante arriva la segnalazione c'è fuori gioco di Amter palla schizza via dopo il contrasto insurmante ancora 20 minuti per la speranza delle due squadre ora andiamo occhio alla ripartenza eh beh eh beh eh beh bel gol da doppietta doppietta inizio tripletta vai non dimenticherà è arrivata la tripletta sono stanco però eh mi conviene Allora Alex commentaci questa tripletta È un momento speciale per ogni calciatore Raccontaci le tue sensazioni Sono fortunato a far parte di un gruppo così fantastico Il mister continua a darmi fiducia Il mister crede che posso farcela e si fida molto di me I risultati gli danno ragione No dai, beh sono felice di aver conquistato la sua fiducia in così poco tempo Il migliore in campo oggi Dimmi, ti aspettavi questo premio dopo la partita? In campo pensavo solo a giocare, a dire il vero e a dare di più Non si è mai perfetti C'è sempre qualcosa da migliorare per essere utili ai propri compagni di squadra Devo ammettere però, mi fa sempre piacere essere premiati Un assist per te oggi A cosa pensavi quando hai fatto quel passaggio? Speravo solo che segnasse Grazie al cielo l'ha fatto Comunque era in ottima posizione E sapevo che non avrebbe certo sprecato l'occasione E con questo è tutto Grazie Alex Quando vuoi Hunter, sei davvero in gran forma Continua così Perché è sorpreso, signor Butler? Per me non è assolutamente una novità Caspita, non dirai mica sul serio Che posso farci? È un talento naturale Risparmiati per i giornalisti, non mi interessa Ho fatto incazzare l'allenatore Ho fatto incazzare l'allenatore Oh 71 Quindi dovrei avere un punto abilità Punti abilità ottenuti 2 Perfetto Allora, adesso vediamo gli attributi Perché mi sembra Difesa, 2 punti abilità Costo 1 Non mi interessa Forte di testa Forza, seleziona questa Per aumentare la tua forza Velocità, punti 3 Punti 3 Costo 1 Precisione punizione Non mi interessa Passaggi lunghi Passaggi corti Rimessa lunghissima Non mi interessa Forte di testa Ok, direi che ci siamo Sono state due partite Una brutta e l'altra migliore Siamo passati anche di grado Adesso siamo 71 E quindi direi che va veramente bene Sta andando veramente bene Quindi per oggi Da Orylofess85 E tutto alla prossima Ciao Ciao Ciao